Servizio fotografico! Servizio fotografico! Quaggiù! Quaggiù? La macchina fotografica! Grazie! Il prossimo! Il prossimo! È così stupido! C'è una festa da Sally, andiamo! Il prossimo! Ciao! E dopo a... Wow! È così bella! Anche io posso camminare così! No! No! Ma cosa? Andiamocene! Ho un armadietto personale! Metterò questo qui e questi andranno qui! Perfetto! Che bello armadietto! Ehi! Cosa vuoi? È il mio armadietto! Che cosa? Ma che... Dove andrai? Da chi è? Sono in ritardo! Dove sono tutti? Dov'è il mio quaderno? Dove l'ho lasciato? Dove l'ho lasciato? Oh no! Ehi! Ciao! Ti amo! Oh no! Oh ma dai! In posizione! Sedetemi! Dunque, questo è molto importante! E questo è tutto per oggi! Come faccio? Dimmi! Oh grazie! Non capisco niente! Ma va a questi! Oh! Oh ma sono fantastici! Grazie! Posso avere una patatina? Ok! Posso averne una? Eccoti qui! Oh! 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 Ma ho fame! Professore! Chi può rispondere a questo? Oh! Lexi! Oh! 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 Dov'è il mio banco? Oh! Incredibile! Io lo so! Questo è il mio posto! Io lo so facendo! Cosa stai facendo? Ok ragazzi! Sedetemi tutti! Sì! Finalmente! Finalmente! Oh! Devo mangiare qualcosa! Non puoi stare zitta! Sì, non sento... Spero che nessuno mi senta! Cibo? Ops! Ehi, ragazzi! Volete sedervi? Sai, è proprio cattiva! Su, serio! Occidenti! Sì, pensa che io non ho benvenuto inzionato! Ma che caos! Anche io so ballare! Hai bisogno di aiuto? Grazie! Sono la ragazza nuova! Che cosa? Vuoi da bere? Sono la ragazza nuova! Ok! Sono in ritardo per la scuola! Vestiti, vestiti, vestiti! È tutto ok! Mamma! Sì, tesoro! Sistemeremo tutto! Mamma, aiutami! Rilassati, so io che fare! Hai peggiorato le cose! Concentriamoci sui capelli! Oh, devo andare! Ehi, salve! Ciao, ragazzi! Che idiota! Monica! Il test! T-E-S-T! Ok, dammelo! Ho finito! E vai! Un quattro! Wow, guardala! Deve essere una di noi! Ciao! Ciao! Dove sono? Benvenuta nel Club dei Nei! Ma perché così buio? Cosa stai facendo? Wow! Ma che posto fantastico! Che cos'è? È un telefono! Ho nessun segnale! No! Che c'è? Come volete! Ehi, vuoi uno spuntino? Oh, grazie! Oh, tieni! Grazie! Vieni! Wow! Oh, no! Eccoti! Lexi! Sei bello stesso del lato! Sì! Ups! Mi dispiace! Oh, ma com'è affascinante! Io sono lì! Ciao! Dove sono? Ehi! Che c'è? Dov'è l'aula 5? Meglio se usi questa! Wow! Wow, è ancora più difficile dell'algebra! Sono in ritardo il primo giorno! Spero che l'insegnante non si accorga di me! Che cosa? Questa è la classe dell'ultimo anno! Ciao! Silenzio! Tu, vieni alla lavagna! Ok! Vieni, ecco a te! Sì! Ah, perfetto! Mi dici il tuo nome? Non sono di questa classe! Sì! Mantieni la calma, Ashley! Questo è solo il primo giorno! Questo deve essere tuo! Oh, grazie! Prego! Io sono Clark! Piacere di conoscerti! Io sono Ashley! Vediamo i diversi gruppi sociali! Loro sono gli Slimer! Poi ci sono i Poppieters! E ora seguimi! Questi sono gli sportivi! Oh, sì! Fatello! Oh, eh! Questi sono i nerd! Andiamo! La reginetta della scuola Roxy! Male puro! Eh, va bene! Wow! Ciao! Ciao! Che cosa succede? Bene, ragazzi! Chi vuole rispondere? Io! Io! Nessuno? Io voglio! Io! Qualcuno? Ehi! Io voglio! Lei mi odia! È solo il primo giorno e sono già esaurita! Devo andare in bagno! Jeremy, vuoi andare in bagno? Ok! Alla lavagna adesso! Forse Ashley può aiutarmi! Oh, per favore! Non muoverti! Occidente! Tu! Tu mi hai resa trendy! Ma cosa sta succedendo? Sì! Il prossimo! Il prossimo! Locate! Locate! Che ore sono? Le quattordici! Ok! Sei stata scelta! Oh, sì! Non dimenticare questo! Ma grazie! Sì! Sì! Ciao! Oh, ciao! Guarda i miei muscoli! Oh, che bello! Mi piace! Aspetta, aspetta! Fammi una foto! Eh, ok! Basta così! Wow! Sono sempre bello! Ma perché sono qui? Ce la posso fare! Io o loro? Sì! Solo un momento! E ragazzi, devo dirvi una cosa! Che cosa? Voi siete i miei veri amici! Aspetta! Questa è la mia festa! Andatevene via! Oh! Sì! 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 Sì!